E' tutto pronto per questo weekend delle messe qui a Cremona, i piloti sono pronti a dare spettacolo e ad infiammare il circuito Lombardo che vedrà protagonista la Superbike questo settembre e quindi sarà un sabato e domenica molto emozionato. E per l'occasione il tracciato di San Martino del Lago è pronto a dare festa perché si è appunto preparato per questo weekend delle messe e come abbiamo detto prima per la Superbike a settembre ma appena prima la Superbike farà i testi ufficiali la prossima settimana. Come dicevamo sarà una giornata, anzi un weekend pieno di gare entusiasmanti con delle white card di eccezione perché avremo Ivan Goi uno specialista di questo circuito qui a Cremona sulla 600 e avremo anche Diego Perotti sulla Kramer. Per non parlare anche di Luca Salvadori uno special guest in quest'ultimo fine settimana qui a Cremona che sarà protagonista nella classe regina la 1000 Open. Sarà emozionante anche la classe 300 perché avremo ospite una persona molto importante, le pilota del Mondiale Supersport 300 Matteo Vannucci ma non solo, abbiamo tantissime altre classi dei trofei molto estati come l'RBF, le CRV, il National Trophy 600. Il programma inizia la domenica mattina con le ultime prove ufficiali e dalle 11.20 al VIA, scusate mi gioco di parole, con ben 11 gare. Vi aspettiamo dunque per assaporare un weekend di vero motociclismo sugli spalti, in pista ma anche nel paddo che quindi si può anche arrivare in moto quindi è vietato mancare.